In Medio Oriente, ora a tre mesi dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, si teme per un allargamento del conflitto. La guerra non è finita, ha ribadito il premier Netanyahu, ma intanto è stata un'altra giornata drammatica a Gaza. Sentiamo il corrispondente Giovanni Battista Brunori. Il capo di Al Jazeera, Wael Al Daoud, piange il figlio Hamza, anche lui giornalista, ucciso nell'ultimo attacco aereo israeliano a Caniunis. E' l'ennesimo gravissimo lutto per il reporter che in precedenza aveva già perso la moglie, altri due figli e un nipotino. Hamza viaggiava in una macchina con la scritta press, insieme con l'altra vittima, Mustafa Aturia, anche lui reporter. Nei bombardamenti di oggi, ucciso anche Alisa Leemagia, giornalista anche lui, nipote di Ahmed Yassin, fondatore di Hamas nel 1987. E sono 70 i cronisti uccisi dall'inizio della guerra, 109 dall'inizio del 2023. A tre mesi dallo scoppio della guerra, l'esercito israeliano annuncia di avere smantellato le strutture militari di Hamas nel nord della Striscia, ma continuano i combattimenti al centro, nella zona di Deir al-Bala, e soprattutto al sud, a Caniunis, dove sono gli ostaggi, insieme con il numero uno di Hamas, Sinwar. I media internazionali, come la CNN, registrano un cambio di strategia, una nuova fase della guerra. A differenza di quanto affermato dal premier Netanyahu, che intende sradicare del tutto Hamas, i vertici militari parlano ora piuttosto di degradare gravemente le capacità militari dei terroristi. La guerra sarà ancora lunga. Ed è stata una giornata di sangue anche in Cisgiordania, una bambina di 4 anni è rimasta uccisa per errore dei militari israeliani ad un checkpoint. Andiamo in diretta da Giovanni Battista Brunori, il nostro corrispondente. Sì, il fatto è avvenuto poche ore fa, in un checkpoint a Gerusalemme Est, dove c'era stato un attacco terroristico, un'auto si era andata a schiantare contro il checkpoint, ha travolto due agenti e ferendo due agenti. I agenti hanno sparato per neutralizzare il terrorista, lo hanno ferito, purtroppo i colpi hanno ucciso una bambina palestinese di 4 anni, gli agenti, la polizia hanno ammesso l'errore e una giornata di sangue anche in Cisgiordania, dove durante l'ennesima operazione dell'esercito israeliano a Genin per effettuare arresti contro sospetti di terrorismo sono scoppiati scontri a fuoco e sono 9 i palestinesi che sono stati uccisi in questi scontri.